a quelli di Langley, incontrai i miliziani libanesi che si dimostrarono entusiasti anche soltanto dell'ipotesi, di usare le bombe e di tornare in azione contro lo Sheikho nel caso in cui il piano col dottore fosse fallito. I miliziani erano una semplice precauzione, non un'opzione. Corro, dottore, avanti! Ci siamo. Buona fortuna, Amad. Amad, è ora di agire. Se la sente? Sì, sono sicuro. Grazie. Aspetta ancora, ce la farà. Sì, sono sicuro. Si, sono sicuro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.